Grazie 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 Dai Marco Grazie 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 Calma 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 dai dai oh cane dai ultimo vai ha preso hai toccato il coppiero ehi bravo Ale pronto? si si hanno cominciato siamo tipo 4-5-0 la telecamera? non lo so mi hanno chiamato Ale ma non ho capito la telecamera dai 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 guarda la mano dai 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 manu dai che va bene Manu forza balla dai Marco forza dai Ale forza Manu ma poi gli avevano detto di farla qua non gli hanno detto niente non gli hanno detto niente si l'avevano chiamato Cristian dicendo che lo sponsor principale della Emma Caccia Dura non gli hanno detto niente anche perché per la scritta troppo grande 4 minuti niente forza Alessio forza alessio dai dai bravo bravo dai dai Manu dai Ale forza occhio figaro così mi passa il mezzo dai dai tira da su dai occhio occhio no dai dai vaiiii dai come fare siete attenti mamma mia non sono concentrati ma dove vogliono bravo Marco vai Ale vai vai dai dai guardate ma se non c'è nessuno in avanti sono tutti indietro guardate vai dai 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 No, 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 no. calma dai 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 attenti forza dai giù la scioccoltea dai dai marco forza non mollare ragazzi tranquilli aia dai 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 brava dai 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 tranquillo dai forza dai 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 ma perché ti segui forza ragazzi vai ragazzi vai vai Marco occhio ragazzi Manu dai dai Ale dai vai ancora dai 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 vai Marco vai decimbi grazie grazie